Adesso negli Stati Uniti con Trump sempre più in difficoltà per il Sexgate, l'inchiesta legata alle rivelazioni del suo ex avvocato. E il National Enquirer, il settimanale scandalistico il cui editore è un amico di lunga data del Presidente, avrebbe censurato materiale compromettente proprio su di lui, il corrispondente Olivero Bergamini. Ieri ha lasciato quasi di nascosto la Casa Bianca. Ormai è scontro aperto tra il Ministro della Giustizia, Jeff Sessions e Donald Trump. Non controlla il suo ministero, aveva attaccato il Presidente, non accetto indebite e pressioni politiche, ha replicato Sessions. E Trump oggi contraattacca su Twitter. Bravo Jeff, allora guarda tutta la corruzione che c'è da una parte dei democratici, le email scomparse dalla Clinton, i dossier fasumi contro di me. Quella corruzione insomma che Sessions per Trump avrebbe ignorato mentre lasciava decommare un'inchiesta su Russiagate. Intanto però arriva la notizia che Alan Weissenberg, capo finanziario della Trump Organization, ha ottenuto l'immunità nell'ambito delle indagini sull'ex avvocato del Presidente, Michael Cohen. Personaggio chiave della holding del Presidente, starebbe dunque collaborando. Così come David Pecker, capo del gruppo editoriale che pubblica il National Enquirer. Un tabloid scandalistico che nel 2016 comprò i diritti della storia di Karen McDougal, ex-playmate e presunta amante di Trump. Ma poi non la pubblicò, la mise a tacere. Cohen dice di aver rimborsato quell'operazione sotto la direzione del futuro Presidente, violando le norme sui finanziamenti elettorali. Trump respinge le accuse, sostiene di aver usato fondi personali, non elettorali, ma adesso ci si chiede se l'Enquirer non custodisca sul capo della Casa Bianca altri segreti.